Il sogno continua, c'è un Napoli che può ancora vincere lo scudetto, quello dei giovanissimi nazionali, ma la strada verso la fanaletta di Gianciano è ancora lunga, il prossimo ostacolo sarà il Pavia, gli ottavi di finale. A Sant'Antimo sarà archiviata stamane la pratica a Bologna, superati i sedicesimi con un doppio 3-0, a Dallara domenica scorsa e oggi in casa. Il direttore d'orchestra Nicola Licuori riesce a tenere in alto la concentrazione dei suoi ragazzi, nonostante il rotondo successo dell'andata. Il Napoli parte subito forte, nei primi dieci minuti si vede che gli azzurrini sono tutto altro che rilassati. La partita resta in equilibrio fino al dodicesimo, quando Martire è bravissima a capitalizzare di piatto uno splendido cross di Mentana. Il Bologna non ci sta e prova a reagire. Al diciottesimo Sala colpisce la tavessa con una bella conclusione nella distanza, ma in contropiede gli azzurrini beffano il rosso-blu. Passeri si invola verso la porta avversaria, arriva al limite dell'aria e piazza un diagonale chirurgico nell'angolino basso alla sinistra di Bentivoglio. Il Bologna non si arrende e al ventesimo Bianconi svetta di testa su un calcio d'angolo. Musella salva su la linea e spegne il fuoco rosso-blu alla ricerca di un'isperata rimonta. Al ventitresimo il Napoli chiude la pratica, spegne l'azione sull'asse Mentana da Diomattera e arriva la terza rete. I ragazzi di Liguori arrivano in porta con tre passaggi consecutivi realizzati nei tempi giusti, quando l'armonia del gioco supera gli egoismi in campo, la fuildà di manovra e la base del successo. Il Bologna però è vivo, al 34esimo se rende ancora una volta pericoloso, esce per addeviare una conclusione di Sanso in corner. Nella ripresa i ritmi sono bassi, il Napoli fa possesso palla, c'è anche il tempo di vedere sul terreno di gioco i classi 2000 Rea e Gaetano, inseriti in un gruppo molto affiatato, in un collettivo dove ogni giocatore si batte per il suo compagno. La partita scorre verso la fine, arriverà girandola dei cambi, il Bologna ci prova con Ferrani, ma non arriva neanche il gol della bandiera. In campo e in tribuna si fa festa, il primo passo verso Chianciano è stato compiuto, ora c'è il Pavia, si comincia domenica prossima in Lombardia. Portareci a Chianciano si canna sugli spalti, questi ragazzi terribili possono farcelo, hanno il diritto di sognare. Grazie a tutti!